Acquisire il parco di Bebilandia e cedere in cambio un terreno di equivalente valore al proprietario. Il comune di Brindisi punta a entrare in possesso dei 7 ettari di pineta e spazi verdi che si affacciano proprio su Cala Mater Domini e creare uno spazio che sia direttamente funzionale alla spiaggia ma anche al vicino Castello Alfonsino e al porticciolo turistico in un progetto di riqualificazione complessiva dell'area. Il parco di Bebilandia, famoso tra gli anni 60 e 70 per aver ospitato un avveniristico Luna Park immerso nel verde, dagli anni 80 in poi è rimasto totalmente dimenticato. Acquistato da un imprenditore di Martina Franca che sperava di realizzarci un piccolo villaggio turistico e nel 2018 passato alla del tour spa di Latina che intendeva edificarvi villette il parco è rimasto sempre in stato di abbandono perché l'area è qualificata come di interesse pubblico e non è prevista alcuna possibilità di trasformarla in zona abitativa o turistica. Ogni ricorso presentato dai proprietari per ottenere il via libera è stato respinto. Da qui l'idea del comune di acquisire l'area e di offrire in permuta alla società proprietaria un terreno edificabile nel quale poter realizzare i propri progetti immobiliari. Bebilandia una volta nella disponibilità del comune potrebbe diventare un parco a disposizione dei cittadini e dei turisti a ridosso della nascente Cala Materdomini in un'area che sarà presto più facilmente raggiungibile grazie a un progetto di ampliamento del sottopasso che collega via Materdomini al rione Casale e a un allargamento delle carreggiate.